Atripalda in festa per tre giorni con Giullarte, edizione numero zero, l'edizione dei Folli, così la definita in conferenza stanza. Sì, perché visto che l'anno scorso abbiamo ripreso Giullarte dopo questa lunga pausa e quindi arrivato alla diciottesima edizione dell'anno scorso, quest'anno diventando maggiorenne, Giullarte deve prendere consapevolezza delle sue potenzialità, perciò l'anno zero, l'anno della maturità, in cui, ripeto, gli antichi mestieri e le arti tradizionali si aprono a queste nuove forme di arte metropolitane e quindi quest'anno ci sarà proprio questo connubio che sposerà tutto il centro storico e accompagnerà la manifestazione. Quali sarà la particolarità di questa edizione? La particolarità di questa edizione rispetto agli altri anni che c'è un tema unico, che è la festa dei Folli tratto da Notre Dame e Paris e che quindi ci sarà proprio tutta l'ambientazione tra stile gotico e medievale e quindi il tema è unico. Gli altri anni è stato più che altro più un contenitore di artisti, invece quest'anno è un vero e proprio spettacolo itinerante con un tema unico. Ci saranno, e credo che questa sarà la sorpresa, delle novità tecnologiche. Oggi anche gli artisti di strada non sono soltanto gli artisti classici, come possono essere i fumabili, a cui ci siamo abituati, ma ci sarà una novità che credo sorprenderanno i visitatori. Quindi anche questo, nel voler consolidare e riprendere il marchio Giullarte, stiamo tentando delle strade nuove che possano fare in modo che sia veramente attrattiva la manifestazione. Quindi crediamo che le premesse ci sono tutte, quindi in modo da avere, ripeto, un marchio che alla fine possa diventare anche indipendente nel discorso di un autofinanziamento, perché se il marchio a un certo punto diventasse più forte e più consolidato probabilmente la Regione sempre ci aiuterà, però magari non deve essere necessariamente il pilastro principale del contributo della parte economica. Noi ci occuperemo fondamentalmente di tre cose. La prima, l'accoglienza con l'infopoint che potete trovare a Piazza Caripanti, all'interno del quale potete trovare tutte le informazioni che desiderate, quanto riguarda artisti, nonché ospitalità, hotel, e tutte le informazioni che possono essere utili ad una persona che viene da qui. Ci occuperemo di quello in cui siamo più bravi, cioè nelle visite guidate. Terremo aperto lo Specus Martyrum sotto la Chiesa di San Dipponisto, nonché la Chiesa di San Dipponisto, nonché il chiosco del Comune con la Cappella dei Contrati e la Chiesa di San Dipponisto. Grazie. Troverete i nostri volontari del servizio civile, non dire le nostre guide, rappresentate benissimo dalla nostra responsabile Maria Assunta Galluccio, che faranno in modo da accompagnarvi in un percorso storico-artistico per chi voglia mettere oltre alla fantasia e alla follia anche una vena artistica. Giurl'Arta non è solo dell'amministrazione di Spagnolo Giuseppe, ma bensì di tutti gli atripaltesi, e soprattutto è del cuore di Atipalda, cioè i commercianti, non perché io ho la delegata al commercio, ma credo che Atipalda è da anni, che fortunatamente il palcoscenico è uno dei primi paesi nella provincia di Avellino sul commercio. Quindi noi subito, insieme a loro, insieme a Diana, insieme alla delegata Campale, insieme al sindaco, insieme alla Prologo, abbiamo lavorato subito ed esclusivamente con i commercianti. E vi devo dire che i commercianti sono stati molto attenti e subito hanno capito che quest'evento era importante per una vetrina come quella di Atipalda. Quindi abbiamo in poco tempo organizzato questa promo giurlarte che va per tutti i negozi, insomma, dall'abbigliamento, come diceva Diana, alla profumeria, insomma, a tutti i commercianti che stanno a posto fisso. In più abbiamo organizzato anche un menù giurlarte per tutti i ristoranti, per tutte le paninoteiche, le pizzerie. In più poi abbiamo fatto anche una cosa simpatica che si chiama l'aperitivo del mangiafuoco per tutti i bar. E poi abbiamo fatto anche per le gelaterie il gelato del canta storico. C'è un criterio di valutazione che ritengo giusto, che è un evento che ha una sua storicità, meriti investimenti, tant'è che voi l'anno scorso avete preso un cofinanziamento di 40.000 euro, quest'anno un cofinanziamento di 70.000 euro e insomma probabilmente crescendo potresti arrivare anche a cifre più importanti. Però, e c'è un però, e non è il caso di questa manifestazione, ma insomma molto spesso su questi poc turismo si finanziano sagre e sagrette varie che non hanno nessuna ricaduta in termini di economia locale e molto spesso queste manifestazioni, ce ne sono poche altre secondo me, 7-8 in provincia di Avellino, che potrebbero avere una ricaduta maggiore investimenti. E quindi io loro consigliai, se vi ricordate, l'anno scorso di prepararsi appena finiva, come vi consiglio quest'anno di prepararvi da lunedì per l'anno prossimo e probabilmente l'anno prossimo potrebbe essere il caso di fare un progetto ancora più importante coinvolgendo la cosiddetta area vasta, non quella sulla quale è investito il comune di Avellino nella precedente consigliatura che non ha nessun senso e non ha soprattutto nessuna vocazione, ma un'area vasta reale che è quella di Avellino, Tripalda, Monteforte, Mercogliano, Mano Calzato, insomma, un'area geografica omogenea che potrebbe quasi rappresentare non i numeri ma la valenza di una città metropolitana. Ora, se si investe in questo senso, io credo che in tutti i settori si avranno risultati importanti. Ovviamente se si continua, avendo demandato agli enti locali la responsabilità delle scelte, ognuno a immaginare che all'interno del proprio comune deve fare il progettino nel caso di specie del turismo o deve portare il bio di gestore nel caso di specie del ciclo dei rifiuti o deve fare l'area vasta che arriva al comune di Tiusano che non ha nessuna analogia col comune di Avellino, diventa tutto più complesso e non si riescono a fare investimenti mirati ma molte volte le risorse vanno disperse. Qui c'è un buon esempio non sotto perché quante volte ce l'avrò l'ora che a voi sembra banale ma nei comuni, avendo io seguito io sono più noto come Presidente della Commissione Agricoltura ma io sono anche Presidente della Commissione Fondi Europei di Anna, quindi secondo me che capita spesso che mi presenti nel caso di specie sono qui come Presidente della Commissione Fondi Europei e devo dire che avendo seguito molti comuni trovo difficilissimo che le Proloco e i comuni ragionino insieme tant'è che addirittura anche i comuni piccolissimi la Proloco vuole presentare un progetto difforme da quello del comune che poi tra l'altro è stato introdotto da due anni che l'ente pubblico debba essere il promotore della progettazione quindi le Proloco non hanno più la possibilità di farli improprio ma proprio per evitare che arrivassero addirittura all'interno degli stessi comuni quindi degli stessi ambiti territoriali più di una progettazione grazie a tutti